Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Tutto il viale che ci riporta poi verso Roma Aspetta che salutiamo tutti, salutiamo i ragazzi prima Bravo Ciao Xuder, potresti farmi salutare la mia carissima amica Anna Giudice dalla FAMI? Ciao Anna Giudice Ecco fatto Qua la pasta è sul fuoco 10 minuti signori Non ha senso ricominciarla? Non ha senso farla? Non ha senso farla? Ho bisogno che Hacker mi dica delle cose? Ho bisogno che Hacker mi dica delle cose? Perché Per poi spararsi 5 ore sotto il sole L'acqua Fino alle 21 non scende Forse alle 21 sarà chiaro ma non c'è il sole Fino alle 19 vai tu 16.30-19 16.30-19 è comunque devastante raga Sì c'è un odore abbastato sgradevole Perfetto Sì c'è un odore abbastanza Sì c'è un odore Deve dire Hello guys Dìglielo qua dentro Hello guys Sì c'è un odore abbastanza La mia conia La mia figlia Dìglielo qua Sì c'è un odore Sì c'è un odore Sì c'è un odore Sì c'è un odore con me che scena è questa raga? so you think you can stole me and spit my eye so you think you can leave me to die questa è la scena di... non devi mai dire i nomi cristo dio sennò capiscono dove siamo geogenia ma porca puttana la prima cosa che ho detto 100 100 dice il nome dritto devo girare? devi andare dritto si che bello questo vedo non vedo la pami hai visto che belle minnazze allora se vuole certo le offro il bagno buongiorno ciao buongiorno andiamo avanti lui mangia così raga mangia così guarda ma tu cosa non ce vuoi? il mancello? il mortasco e non lo apri apri? ma ma che minchia il corpo non è fattibile non è apribile apri? non è apribile Roberto non è fattibile sta congelando la mano figa è a meno 18 gradi ma dove vai? ma dove vai? ma dove vai? canto la marcia è via faccio così ti faccio di lì ti riprendo e ti porto via come no enti? ciao salvatore conte ciao bello non conosco ma cos'è? il mercazio merda il mercazio mi fermo il mercazio è pronta vedi Ale che occhiaie che ho prontissima sono già scassata occhiaie as go go as go go occhiaie basta basta io quasi qua mi dovrei stare la pipì e dove? dietro la è più più logico dietro la macchina qua che non mi vedo si dai infilalo dentro grazie sere giochi 19 dei nostri grazie sere vede che lei fa cose che non dovrebbe fare sto tranquillo grazie sere domani sono operativo impostazione quindi tu tu sei di un nevrotico che mi fai vomitare perché mi si stacca il coso dai ti stacca il coso sembra che ti ho caro in vista la madonna figa struttura come fare invece che per quello dai smettila di rompermi i coglioni fatti la live non cagarmi il cazzo me non mi ci mettere con la tua live dai e allora salve devi cagare la minchia così allora odiaz ti ho cari no cazzo tira fuori il coso fa fermatemi a Perugia vi offro un caffè ma dove cazzo è Perugia innanzitutto non so neanche dove sia raga non lo so se vinco raga ma chi è che mi ha cecchinato? ma sempre lui? ah ma ha cecchinato l'altro posso mettere le mani nelle tette? posso mettere che devo cancellare qualcosa? piccola rabanata la piccola rabanata non si può fare? si hai ragione Sara peccato per la carbonara ma solo no era solo per chiedere ma è una piccola pesca di beneficenza non si può fare una pesca di beneficenza? dai raga le stanno esplodendo le minne porca troia io ho già capito io ho già capito che qua finisce a merda questa live raga centocento fammi sentire non puzzano no non puzzano di niente ma penso che finiamo qui e partiamo ragazzi e poi diciamo sotto le tette che si impegna non male sono qua al fuori imperiale sono finita Serne ah ok erano questi i snappi non quelli che ho ucciso 100 patetine cr20 tv mi sento un po' depesso grazie cr20 grazie grazie a parte il problema è che come sempre siamo senza i bunker e questo è pericolosissimo in questa postizione lui mi vuole salire? nooo parco NIEEEEEZ su